10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 45, 50, arrivo! No, non ho visto nessuno! Proprio, vuoi giuggerci o non si vede? Mi fermo di nuovo! Sì, eh! Per me, ma l'importante è che questo partigiano ci ha dato la libertà e ci siamo noi che vediamo questa lapide e cosa succede? Cominciamo a scherzarla e arriva una signora che ci spiega tutto, noi facciamo finta di interessarci e ce ne andiamo. Poi però, cominciamo a ragionare un attimino e capiamo che questa cosa è abbastanza importante, quindi ci ragioniamo sopra. Andiamo all'anagrafe, andiamo in diversi posti a cercare più informazioni su Vittorio Colombo. Il partigiano su cui stiamo facendo i documentari. Che è stato ammazzato in una cascina. Da chi? Dai fascisti. Dieci giorni prima esattamente che nascesse la figlia e otto giorni prima della liberazione. Ed! Grazie a tutti.